Questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza di casi di Covid-19 a livello nazionale, però l'incidenza rimane elevata, intorno a 450 casi per 100.000 abitanti e addirittura in alcune aree del Paese in controtendenza si nota un aumento dell'incidenza stessa. Rimane al di sopra della soglia critica il tasso di occupazione sia in area media che in terapia intensiva. Quindi nonostante una leggera diminuzione dell'RT che si fissa intorno al 0,82 è necessario che i cittadini continuino a mantenere dei comportamenti estremamente prudenti evitando in modo particolare aggregazioni e al tempo stesso le amministrazioni locali devono vigilare e mantenere alto il livello di allerta.